Ci avevate sperato che non facessi più fallout? Eh, volevate, invece eccomi qua come sempre e con un revolver sempre più cazzuto. Comunque, allora devo dirvi moltissime cose. Per prima cosa Preston Garvey, eccolo qui, ha rischiato di perdermi l'armatura atomica. Gli avevo detto esci dall'armatura. Ok, mi ha detto ok, non è uscito prima z'ora. Vabbè sono andato via e me lo ritrovo davanti nudo con un martello. Cosa minchia ha fatto? Poi non so, ero per tutto il castello che cercavo, dove cazzo l'ho buttata l'armatura? Poi me la ritrovo qui. E eccolo qui, io giuro che non gli darò mai più un'armatura atomica anche perché... Ah, comunque, ho fatto il pay, l'amicizia, massima amicizia, sia con lui, sia con... Dov'è? Eccolo qua, con Corasworth. Grazie, Corasworth. Gli consiglio del giorno e per farmi perdonare di questa assenza, ecco qui il robo birra. Ecco, prenderò una birra. Come tutto prendo una birra, ok. Si fa una birra al giorno. Ecco qua. Gwyneth Pail ghiacciata. Però adesso... No. Adesso ascoltate la chiarezza delle sue battute. Raccontami una barzelletta. Il barista dice, non serviamo particelle più veloci della luce qui. Una stazione entra in un bar. Capito? Fa ridere? No. L'uccido, o no? Non l'uccido solo perché mi dà la birra gratis, ok? Comunque l'abbia... Ah, e l'ho trovato? L'ho trovato nella combat... Nessi. L'ho trovato nell'Hatta Pause di Shamrock. No, Shamrock. Eccola qua. Tra... Dov'è? Hotel Arbo Master e Custom House Tower. Eccola qui. Qui dovete roba birra. E ci sarà anche una quest, però io me lo son contenuto al fanculo. Comunque, oggi ho intenzione di andare nella combat zone, che credo che sia in queste zone qui, ma la troverò sicuro. Ah, qua c'è un tizio chiamato Dando. Ma non ho l'altro speciale, ha solo un nome. Comunque, ecco, è in questo qua edificio, quindi facciamo piano. Dato che ho anche il fucile chiamato Mieti... Mieti di Rebbia perché era letteralmente. E... Oh, mi sa che se ne è accorto... A2K. E' uno. No. Voleva. Il secondo... Beh, eccolo qua. Shag. Non so perché l'ha chiamato così. Vabbè, morti. Aspetta, 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 aspetta. Fermo, 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 fermo. Mi timo di la pista da testa. Così. E ora il secondo colpo lo farà decisamente fuo, infatti. aveva un... Cosa che aveva? Carò? Fucile doppia canna corta. Ma dove voleva andare sto qua? Vesti da pastore? Me lo tengo. Aspetta, ma dove aveva il capello che gli è esploso la testa? Beh, era anche ben attrezzato. Guardate, cucina da campo, un ramo in istantaneo. Sì, non è... Ma almeno non ha un tetto sulla testa. Ah, no, eccolo qua. Aspettate, trucco di magia. Tatatatà. Perché è sbucata fuori da nulla sta cosa? Mi sa che sto andando dai gunner perché di solito sono sul... Cos'è? Predone, distruttore. Perché me lo segna come alleato? Scusa. Non so. Parla. Cosa? 250 tappi? O ti ammazzo, lo sai? Scusa, eh? Ah, io non ho detto che volevo passare. Toh! Non ci è voluto nulla. Sei arrivato in ritardo. Oh. Non pensavano avessero altri. Meglio andare a riparo. Ah, gli ho già uccidere. Eh, volevo. Va beh, perdone. Un colpo. Ah, non è ancora morto. Ok, adesso è morto. Resistiamo a un salto simile. Sì, lo colpisco. Pff, scioltato. Ah, devo comanzare, giusto. Quasi quasi, vado a vedere cosa che cosa aveva. Ma non credo fosse da solo. Quindi, prepariamoci al peggio. E vedo già che simbolo nascosto è là che tremola. Ah, boh. Dov'è il predone saccheggiatore? Eccolo lì. Faccià. Facciamo più piano. Eh, sì, vaffanculo. Ah, è vero, dobbiamo entrare nel, nel, come si chiama. Io ci sono andato sopra. Vabbè, non sarà nulla di portante. Tanto ce la faremo. Un semplice perdone saccheggiatore. E allora vai a combattere, cosa vuoi? È qui che si ripara dietro. Dov'è, dov'è, dov'è? Non preoccuparti. Visto? Non era così difficile dopo tutto. Allora, era qua se non sbaglio. Qui, qui vuoto. Comunque è bella la vernicia. Che c'è la vernicia? Voltexacoa. Eh, tirapugni. Non aveva nulla. Non aveva nulla. Qua sembra tutto libero, nonostante sia un incrocio. E la vede una sagoma di un brodo. Giustamente. Come ho fatto a mancarlo? Questo lo fa fuori. Visto? Prevedibile. È questa qua la Combat Zone, giusto? Qua non c'è scritto Combat Zone. Non mi piace affatto. Ah, oh. Cosa ho fatto? Perché la mia veine? Cosa ho fatto? Oh, porca puttana. Siamo finiti in un macello. Siamo finiti in un casino che non possiamo gestire. Che cavolo. Spari in lontananza. E lì c'è... Cosa diavolo sta succedendo lì? Gunner comandanti. Ma... È la mia occasione. Figli dell'atomo, mi sembra, dato che sono gli unici a usare armi a radiazione. Sono lì? Non sono lì. Vabbè. Eh, però Gunner comandante tiene testa bene, eh. Anche se da solo. Io voglio quell'arma tu. Spero... Sì, sì, sono figli dell'atomo. Ho sentito la parola eretico e quindi sono figli dell'atomo. Ma... Ma scu... Ma che cavolo vuoi tu? Combatti con loro? No, non con me. Io non sono figlio dell'atomo. Ma guardate, guarda. Ho visto un tremolio della telecamera. Che ci sia un death clone nelle vicinanze? Aspetta. Eh sì, ora mi tocca farlo fuori. Ma cosa vuole da me questo qui? È contro i figli della... Oppure... Magari li ha fatti fuori? Vuoi vedere che sia così forte? Eh, sta minchia che l'ha fatto fuori. L'ha presa in... Comunque, a parte di scherzi, andiamo a vedere un po' i figli dell'atomo. Non sono nelle condizioni di affrontarli. Però... Saccheggiamo... Saccheggiamo... No, eh. Ma come mi sto non... Ma il maestro del mimetismo, guarda, dietro un palo. Non devi nasconderti dalla gloria dell'atomo. Fottici. Mmm... No. Dov'è il cadavere del tipo? Presto un levati delle scatole che mi dai un fastidio. Ma dove cavolo è il cadavere del gunner, comandante? Eccolo qui. Tappo. Chi? Chi? Ho sentito muore parlato, ma... Scusate, io sono solo di passaggio. Cosa volete? Ho capito. Io mi tuffo in acqua. Ciao. Sempre efficace. Aspetta, ma con l'armaturata mica ti fa un poco danno. Perché hai un'altissima protezione delle radiazio... No, cioè, veramente? Cioè, veramente? Gunner e capora... No. No. Avete visto quanto danno gli faccio sparandogli in testa. Cioè, io me ne vado. Ma hanno la testa di... di adamanti o più avanti? Cos'è che non gli fai danni che sciottandoli in testa? E evitiamo di fare la cazzata di prima, cioè, andare al massacro, io direi di impugnare la nostra... Ce la fai? Oh, non la impugna. Oh, ce l'ha fatta. Tanto quello lì era un predone schersino, quindi non vado neanche a saccheggiarlo. Vediamo un po'. Qualcuno? Sì, c'è qualcuno quello lì sotto. Toh! Vediamo se la fa. Ah, l'ha preso. L'ha danneggiato parecchio. Io non posso, riesco a farlo fuori. No, sei vergognoso come spava, eh? Veramente. Vai, Preston! Vai, vai, vai! Guarda, però. Utilissimo, pre... Ah, mi sa che è stato lui ha... eh, ce la faccio a beccarlo. Perdonò il saccheggiatore, non è che è bardato come... come pensavo. Ultimo colpo. Oh, tutti e tre... tutti e tre assegnano adesso. Cos'è? È diventato il mago? Le... le regole di Tommy. Non combattere fuori dalla gabbia. Regola numero due. Eh... no, no, tappi, non si entra. Regola numero tre. No... ah, no, principianti, mi sembra, eh? Eh... ah, chi, chi, chi infrange le regole sarà sparato o peggio. Come... ah, ecco qua dove c'era scritto combat zone. L'avevo visto. Questo... ah, no, eh, l'avevo scambiato per qualcos'altro. Rilevato. Rule breakers. Ah, qua ci sono quelli che hanno in franto. Beh, tanto io hacker, sono un... sono hacker man. Ah, ci vado dopo. Non ho voglia. Comunque, mi sono bagato. Sento, c'è te che ora qua. Ma... ah, c'è un combattimento in corso. Predone. Ti prendi? Chi c'è la? kite. Ah, se non sbaglio. Ah, è un compagno anche. Fuck. Cavolo. L'avevo detto. Granata. Granata assoluta. Oh, non c'è solo uno. Eh, predone psycho. No, 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 il moschetto bonzollo, dai. Vi do io un bonzollo, come si deve. Predone... no, predone psycho. Non spreco neanche munizioni, guarda. Cioè, non spreco celle di fusione. Ce n'è uno solo lì, vabbè, tanto al massimo sprecherò un po' di spava. No, ma se veramente fai così schifo. Aspetta, hai un martello gigante? Vai, vai a combatterli. Vengo fuori, io son qui. Paeta. Volevo. Ehm, mettiamoci al riparo qualche altra parte, magari tipo qui. Predone psà. Ma dove vuoi andare? Mi veniva addosso con una, con una leva per ruote. Ma, 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 chi, 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 chi li fa entrare, sta? Chi la fa entrare, sta gente? Aspetta, preso. Adesso devo andare col bonzollo, però. 3, 4, 5. Perdone, feci. No. Ma no, il perdone, feci. Dove il perdone distruttore? Perdone psycho. Come non c'è più nessuno. Ne vedo uno lì. guardalo. Eeeeh. L'ho veramente ma... Vabbè, anche loro non è che hanno la mira da, 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 dai, eh. Veramente. Uh, perdone, feci. Chi è che ha buttato una molotov così? Col coltellino viene a prendermi, ma, cancrenoso sei. Non ho preso, oh sì. Porca. questa ha fatto male. Decisamente. Devo stare un po' a riparo. Non voglio morire adesso, eh. Tutto, ma, no. Sì, uso spesso lo spave perché non vorrei essere fottuto. Quindi non di te, eh, non sai mira. Sì, non so mira. Ma, è possibile che devo prendermi una dannata molotov in faccia ogni volta? Presto non hai un bratello gigante e vai a fare qualcosa. No, ti prego, veramente. Vai a fare qualcosa. Hai un martello. Oh mio zi. Cioè, sul serio. No, adesso, io sto, io resto, giuro, resto fermo e aspetto che faccia qualcosa. Niente di cui preoccupare. Niente di cui preoccupare. Oh, ce la fa. Allora, è forte, ma solo quando vuole. Ce n'era un altro che spara qua. Devo trovarlo però. Kite, kite è un compagno. Prendo. Ah, gli sono i rule breakers se non sbaglio. Pericolo. Così così impugno la mia miti trebbia fidata. Avevo letto predone psaico. Spero di sbagliarmi. Dimmi te se mi tocca. L'ho addirittura mancato. Non riesco a individuarlo. Quello lì è un suo braccio? No. Sto consumando proiettili di revolver come se fossero panini. Cioè, io sono un panettiere, sono un panettiere di munizioni. Le butto via come... E va. E sta fermo. Oh. È andato a segno. Elimina i predoni rimasti. Non male. E... Allora, presto un gare avvici già pensato. Complimenti. Almeno una volta ogni tanto le cose le fai. Lì c'è predone. Psyco. dai, a vedere rotto le palle. Allora, mi sono stupito di quanta portata abbia sto fucile. Scusa. Ah, Tommy non era nemico. Io ho lui. Ah, Tommy cacasotto. Sì. Giusto un pochino narcisista, eh. Sì. Sto arrivando. Allora, perdone psaico. Steampack. Perché non venite qui e non ci dimostrate di non avere cattive... Sono qui? Beh, scusa. Ah, è un gol questo qua. Non saprei. Da dove ero io? È stato davvero un bello spettacolo. Sì? Sei fatta per caso? Che domande faccio veramente? La verità è che stai iniziando a perdere colpi. Cosa? Non credo che la cosa debba preoccuparti ormai. A quanto pare siamo appena stati messi fuori dai giorni. Non so se dovrei abbracciarti oppure lasciare che il mio uccellino ti faccia fuori. Chi? Ah, lei? Eh, vabbè, è pesta, eh. Cosa vuoi? Eh, sembravate nei guai, è vero. Mi sembrava che fosta in difficoltà. In difficoltà? Non ci sa. No. Ma far divertire quegli idioti faceva andare avanti la baracca. Adesso non so... Eh, giù. Eh, scusa. Volevano spararmi. Cosa dovevo fare? Mi arriveranno altri. Ora mi serve un attimo di pausa, poi sono pronta. Per comandare con chi? Perché? Per farti anche... Ancora un po' della tua schifezza. Ah. Sai una cosa? Alla fine quello che è accaduto è una sorta di benedizione. Tu l'hai vista in azione. E cosa ne pensi di Key? Ma che pista altro che... Ha sicuramente del talento. Bene. Almeno c'è qualcuno che sa ancora riconoscere la classe. Non è la tua bravura nel combattimento a preoccuparli. Ah. Ah, ecco cosa. E questo significa che non vedrò più nemmeno un tappo. E se tu non mi procuri di... Spazza. Non sei più una risorsa utile. Sei un peso. Per me. E per te stessa. Quindi... Ecco cosa ho pensato. Avanti spiega. Ah. Mi guarda alle spalle. Ma non male. Faresti un favore mentre io cerco di rimettere i piedi questo compagno. Va bene. Sì. Ma ne andrebbe bene come compagno. Eh. Perché? Perché vuoi che lei venga con me? Ehi Tommy. Perché vuoi liberarti di me? Ascolta. Sorry. Non voglio essere io a dover commentare la tua sconfitta. Va bene? Per cui... Fatemi questo favore. Tutti e due. Ehm... Certo. Ok. Beh, è vero. Allora è deciso. Vieni, prendi. Questa è per l'ultimo combattimento. La tariffa dello sterminatore. Aspetta un secondo. 104 tappi. Bello. Senza di me. Oh. Non ti preoccupare. Ti metterò in sesto questo posto. Magari con una clientela meno assetata di sangue. Ora forza. Levatemi di torno. Un seguito è venuta qui. Agli ordini. Sento a avere un figlio di puttana, Tommy. Lo sai. L'avrei detto anch'io. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Beh, è che io. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Fammi sapere. E che adesso. Anche adesso. Dai. Mi sono rotto di Preston Garvey. Sì. Fai attenzione. In via Preston Garvey ha il castello ovviamente. Fuori dalle scatole. Fuori. Ah, un fucile a doppia canna. Questo qui non ha nulla. Preston levati dalle scatole. Preston. Anche quando non sei più un compagno. Sai veramente farmi incazzare. Oddio. Guardate questa scodella che fa la breakdance. Io non sto facendo nulla. Sta facendo la breakdance da sola. Oddio. Devo fermarla? O la lascio andare? Io prendo ramen. Quasi quasi la lascio andare. Tostapane. Utile. Guardate. No dai. Se la prendo. E la butto per terra di nuovo. Cosa fa? Non si ferma. Non si. Che magia oscura è questa qua? No, io la lascio andare. Qualcuno mi spiega come cavolo è morto questo qua? Che sembra una gallina. Vediamo dunque cosa hanno fatto i rule breakers. Beh, sembrano ancora vivi quindi. Vediamo. Davvero? Ah. Sono ancora aggressivi? Sul serio? Se io sono qua per aiutarti. Ah. E allora vuoi uscire? Ma perché non li posso uccidere? Non andrò quanta... Lo faccio? Così. Io vado, eh. Ma sul serio? Ok, bel ringraziamento. Io gli aiuto e mi rompono le palle. E allora? Mi ammazzo anch'io. Mi ammazzo io al posto loro. Ah, una casaporte. Non l'avevo notato. Ero troppo incazzato. E... Dai che c'è... Ok, un po' più su, più su, più su, più su. Fatto. Bene. Cosa c'è di importà? Allora nulla. Di cui non potessi fare a meno. Comunque è meglio tornare a cena al castello. Che dite? Ok, però ammettiamo. È stata davvero una faticaccia per andare nella combat zone. Perché sono morto tipo... Quante volte? Due, tre volte? Eh... Sì, e se ne va. Se ne va. Poi do prendere un compagno. E se ne va via. Perché mi odia. Adesso se ne resta lì. Comunque finisco quell'episodio. E... Molto probabilmente lo porterò molto più spesso a Fallout. E quindi ci vediamo i prossimi episodi. Che spero usciranno prima... del solito. Che se ne va. Voi... Che se ne va.